Musica Eccoci con la seconda edizione del nostro telegiornale, bentrovati. Repriamo dunque con la cronaca giudiziaria. Quattro anni e dieci mesi di reclusione sono stati combinati dal giudice nel primo grado di rito abbreviato all'aggressore del vigile urbano di Catania. Ricorderete il fatto, accadde qualche mese fa. Il vigile aveva impedito al 22enne di entrare in una zona di Catania chiusa al traffico per tutta risposta. Fu aggredito, le lesioni a carico del vigile urbano destarono parecchio scalpore in città. Oggi la sentenza. Il pubblico ministero Santo Di Stefano aveva chiesto quattro anni e tre mesi di reclusione. Il giudice per le indagini preliminari lo ha condannato a quattro anni e dieci mesi, sette mesi in più rispetto alla richiesta della procura. Con la lettura della sentenza si è concluso il processo con il rito abbreviato al giovane catanese di 22 anni, Orazio Di Grazia, accusato di aver aggredito lo scorso 2 settembre l'ispettore di Polizia Municipale Luigi Ricari, 57 anni, riducendolo in fin di vita. L'imputato è stato anche condannato al risarcimento dei danni alle parti civili e al pagamento di una provvisionale a favore dell'agente in ragione delle spese mediche finora sostenute, 8.000 euro, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Il vigile urbano, mentre era in servizio qui in via del rotolo, venne colpito con un casco per aver impedito l'ingresso di uno scooter in una zona chiusa al traffico nel fine settimana. L'Icari, che porta ancora i postumi di quel pestaggio e che oggi era presente in aula quando il GIP Giancarlo Cascino ha letto la sentenza, venne gravemente ferito alla testa e rimase per mesi in coma a causa dei postumi di un profondo trauma cranico. Il 22enne, difeso dagli avvocati Mario Cardillo e Ignazio D'Ansuso, dovrà scontare la pena in carcere ed è stato anche interdetto per 5 anni dai pubblici uffici. Nel processo si sono costituiti parte civile i familiari del rispettore di Icari, l'Associazione Nazionale Vigili Urbani, l'Associazione Professionale della Polizia Locale e il Sindaco di Catania Enzo Bianco. Il legale del Vigili Urbano, l'Avvocato Carmelo Calì, ha chiesto per il suo assistito un risarcimento di 100 mila euro. Ci spostiamo adesso a Tre Castagni per un vero e proprio atto sagrileco. In fiamme la chiesa della Madonna dell'Aiuto a lasciare, recentemente restaurata, sono stati trovati dei contenitori di benzina. Dunque l'incendio dichiara origine dolosa. Ecco ciò che resta della statua della Madonna dell'Aiuto, venerata nell'omonima chiesetta di Tre Castagni in provincia di Catania, risalente al XVII secolo. Qualcuno la scorsa notte avrebbe avvolto la scultura con un lenzuolo e dopo averlo cosparso di liquido infiammabile ha piccato il fuoco. Altro combustibile sarebbe stato sversato sull'altare e dentro il piccolo luogo di culto che è frequentato giornalmente da decine di cittadini del quartiere Sciara. Tre letaniche, due completamente vuote, trovate dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme dopo la segnalazione giunta alla centrale operativa intorno a luna di notte. Ingenti danni, distrutti messali e paramenti sacri, bruciate le panche e annerite le pareti, le fiamme hanno anche provocato un'esplosione che ha mandato in frantumi le vetrate e reso la struttura inagibile. La chiesa, gestita dalla matrice, è affidata a padre Alfio Cristaudo, originario proprio della cittadina Etnea, che visibilmente scosso per quanto accaduto, è stato ascoltato per ore dai carabinieri che indagano. Sul posto alla ricerca di indizi, utile a ricostruire i fatti, sono anche intervenuti i militari della sezione scientifica che hanno ispezionato ogni angolo della chiesetta che viene governata direttamente dai fedeli, diversi coloro che sarebbero in possesso delle chiavi. Nessun segno di effrazione sarebbe stato trovato dagli investigatori né nel portone d'ingresso né negli accessi secondari e nessuno nella zona avrebbe visto o sentito nulla. Chi ha agito lo ha fatto indisturbato. Nessuna telecamera di videosorveglianza è presente. Il tempietto e la stato della Vergine, grazie alle offerte dei devoti, erano stati restaurati solo qualche anno fa. A verificare i danni anche il commissario prefettizio, Tania Giallongo, che dalla scorsa settimana regge le sorti del comune dopo lo scioglimento per mafia. Guardi, è molto presto per commentare un episodio del genere. Le chiavi di lettura possono essere tante. Quindi l'arma dei carabinieri sta procedendo, lavoreranno sicuramente bene. Io sono qui solo perché si tratta di un evento che riguarda quella che in questo momento è la mia comunità. In via Madonna dell'Aiuto anche i sacerdoti della zona, il parroco della chiesa madre, Antonello Russo, il rettore della chiesa di Monpileria, Alfio Primitera, quello del santuario di Sant'Alfio, Alfio Torrisi. Don Alfio Cristaudo è cresciuto in questo quartiere, Don Antonello Russo, il parroco è cresciuto in questo quartiere. Siamo tutti legati a questo piccolo angolo di paradiso. I sacerdoti negli anni con la comunità del territorio l'hanno zelato, l'hanno tenuto come un gingillo. È un luogo di una devozione semplice, senza grandi esteriorità, ma profonda, di tutta la gente del quartiere del paese. Sono addoloratissimo e basta, questo solo posso dire. Erano mai successi i fatti del genere? No, mai, almeno. Nelle chiese nostre no. Quindi, adesso aspettiamo di sapere qualcosa. Scusate però perché non ho nemmeno la forza di dire altre parole, siamo addoloratissimi e basta. I carabinieri della scientifica e quelli della compagnia di Ecireale e della stazione del paese per ore hanno scandagliato ogni angolo della chiesetta e isolato le probabili impronte digitali dei piromani. Sentiti anche i cittadini che hanno raccontato dell'attivismo del giovane sacerdote che ha avvicinato molta gente a questa comunità. Un eccessivo dinamismo che forse ha dato fastidio a qualcuno. E a proposito di cittadini di Parrocchiani li sentiamo ovviamente c'è sgomento a Trecastagni. Sgomento e rabbia tra gli abitanti del quartiere Sciara a Trecastagni risvegliato stamani dall'odore acre del fumo che fuoriusciva dalla chiesetta data alle fiamme dai ignoti. C'è chi ha presa la notizia non ha trattenuto le lacrime chi invece da dietro i vetri dell'abitazione osserva i carabinieri mentre effettuano i rilievi. Il rione a pochi passi dal centro è legatissimo a questo luogo di preghiera. che venne realizzato nel 1648 distrutto dal terremoto del 1693 e poi ricostruito nell'Ottocento. Sono in tanti quelli che ogni sera si riuniscono qui per la celebrazione. Ieri avevano venerato una reliquia di Santa Rita che venne portata da Roma da padre Alfio Cristaudo ci raccontano e proprio oggi sarebbero dovuti andare in pellegrinaggio a Catania alla chiesa della Madonna dell'Aiuto. Nessuno qui riesce a spiegarsi il perché di questo gesto sacrilego. Ci conoscono tutti gli abitanti della zona una traversa di via Francesco Crispi e non si danno pace al pensiero che qualcuno se la sia presa con la statua della Vergine e col bambinello. Ogni volta che usciva e ci dicevo per un miracolo me lo faceva sempre. A pigliarsi la cuina. Povera figlia. voi siete molto legati a questa statua? Immensamente. La Madonna è inguardabile sembra un carbone proprio il bambinello non c'è più non ho parole non ho altro da dire perché ancora non mi sto rendendo conto della situazione veramente. Ma è stata una cosa terribile perché in una chiesa non si fanno queste cose. È inutile la Madonna se tu non credi ai santi alla Madonna e Gesù è inutile che entri in chiesa. Stai fuori non ci vai non li conosci e allora allontanati dalla fede. Ho pianto come ho saputo la notizia mi ha telefonato mia figlia ma io manco ci volevo credere e poi mi ho messo a piangere. Questa chiesa era stata restaurata da poco? Questa chiesa è stata una cosa per tre castagne è stato il centro di tre castagne in tutti i paesani. Sconvolti è dire poco perché fine ieri sera c'è stata una bella cerimonia che era rientrato padre Alfio da Roma che è stato a Roma e ieri abbiamo salutato le reliquie di Santa Rita che ogni giovedì facciamo la preghiera a Santa Rita e fra di quale lui ha detto che a Roma gli hanno regalato questa reliquia di Santa Rita e c'è stata ieri sera come tutte le sere perché anche che non c'è stato padre Alfio che è stato a Roma noi tutte le sere facciamo il rosario e facciamo le preghiere cioè fino a ieri sera alle 7 e un quarto eravamo qua poi ci ha ricordato che stasera c'è il pellegrinaggio alla Madonna dell'Aiuto a Catania che è tutto organizzato cioè più che altro padre Alfio poverino perché veramente ci ha messo anima e corpo a questa chiesa perché da adesso da 2-3 mesi da quando c'è lui adesso la chiesa è aperta tutte le sere facciamo facciamo i rosari ci riuniamo cambiamo pagina ma rimaniamo sempre in cronaca rimasta vedova a Catania sbarcava il lunario spacciando cocaina una donna di 55 anni di 55 anni finita in manette a Librino arrestata dai carabinieri della compagnia Catania Fontana Rossa che si sono insospettiti della via vai verso la casa della donna poi sono stati i carabinieri si sono intrufolati appunto nella via vai hanno rinvenuto e sequestrato 4 buste di cellofan contenente circa 100 grammi di cocaina ovviamente suddivisa in dosi già pronte allo smercio droga tra Catania e Modica è stata scoperta dalle forze dell'ordine vediamo la droga si muoveva sull'asse Catania Modica ricostruita dai carabinieri supportati da unità cinofile dal nucleo elicotteri di Catania la rete e gli intrecci della criminalità modicana nel florido mercato delle sostanze stupefacenti 40 militari impegnati arrestate 9 persone tra i 20 e i 50 anni sia italiane che straniere uno di loro è catanese c'è anche una donna tutti i destinatari del provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica l'operazione denominata Pittore Barocco trae origini da alcune attività degli indagati che utilizzavano una piccola impresa di ristrutturazione edile e pittura per dissimulare gli incontri con il fornitore e utilizzare un linguaggio in codice per parlare della droga le indagini sono scattate a febbraio dello scorso anno e si sono protratte per 13 mesi da un'attività di repressione del fenomeno dello spaccio nella zona di Modica Bassa si è arrivati mercato nero di stupefacenti in particolare si usufruiva della ditta intestata ad un marocchino che è tra gli arrestati per garantirsi una copertura per il reperimento e l'approvvigionamento del trasporto di grossi quantitativi di droga hashish marijuana e cocaina buona parte degli indagati viveva praticamente di questo svolgendo l'attività illegale in tutto il circondario di Modica nell'operazione odierna sono stati sequestrati inoltre 4 kg di droga i carabinieri della compagnia di Gravina hanno arrestato di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza un pregiudicato di 42 anni perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglie e lesioni personali aggravate la vittima una 26enne di origine campane ieri sera ha trovato finalmente il coraggio di chiedere aiuto al culmine dell'ennesima lite finita sempre allo stesso modo con lei picchiata dal marito violento sul posto è giunta una radiomobile che ha avuto accesso nell'abitazione ha ammanettato il conige e liberato la donna dall'incubo la vittima medicata all'ospedale Carnizzaro di Catania se l'è cavata per fortuna con delle lesioni guaribili in 7 giorni parliamo adesso di Polizia di Stato ma di di un particolare aspetto la Polizia di Stato che sono lavoratori appunto dello Stato ma che non sono per molti versi equiparati ad altri lavoratori statali vediamo si tratta di una vera e propria sperequazione ed è un argomento assai sentito dai poliziotti in servizio in tutta Italia che a differenza degli altri impiegati pubblici non godono di sistemi contrattualizzati di gestione del personale come ad esempio tutela legale della salute assicurativa oppure per applicazione di norme a salvaguardia della famiglia di welfare si è parlato oggi a Catania grazie ad una tavola rotonda organizzata dalle segreterie provinciali del SIAF e dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia welfare è uno strumento indispensabile per la gestione del personale che in questo caso è chiamato a difficili compiti ed è spesso vittima di particolare stress da lavoro correlato è un impegno che va supportato con un sistema di servizi che oggi il nostro Stato non riesce a dare primo elemento secondo elemento c'è uno spostamento del sistema di tutela quindi del welfare state che si regge su un principio di uguaglianza oggi notiamo che si sposta nel rapporto pubblico privato cioè ove il privato interagisce attraverso una contrattazione pubblica per supportare i propri dipendenti la debolezza del sistema secondo noi è quello di riguardare revisionare un modello di welfare all'interno di uno Stato che non è più uno Stato assistenziale ma uno Stato liberale che debba agevolare i lavoratori nella sua dimensione umana come cittadino e non solo come lavoratore lo hanno affermato oggi tutti gli intervenuti tra questi anche l'onorevole Emanuele Fiano responsabile della sicurezza per il partito democratico promotore di provvedimenti a favore delle forze dell'ordine il convegno ha posto nuovamente l'indice su una emergenza esigenza per i lavoratori di polizia cioè quella di essere equiparati gli altri impiegati pubblici fra dieci anni cominceranno ad andare in pensione tutti i colleghi e le colleghe che sono entrati dopo il 95 con la riforma Dini e le loro pensioni rispetto a quello del pubblico impiego senza una previdenza complementare che la controbilanci saranno inferiori e ci saranno seri problemi e allora questo dovrà essere un impegno un impegno serio da parte di tutti i sindacati del comparto sicurezza per risolvere questo problema che è una bomba ad oro Algeria e parliamo adesso di teatro parliamo del teatro stabile che da ieri ha iniziato a pagare i suoi debiti così come previsto dal piano di risanamento economico omologato dal tribunale lo ha detto questa mattina il presidente del consiglio di amministrazione dello stabile Carlo Saggio che ha presentato che ha aperto i lavori di presentazione della stagione 2018-2019 si è parlato evidentemente innanzitutto delle condizioni economiche dello stabile tra l'altro il sindaco di Catania Enzo Bianco che è anche presidente della città metropolitana di Catania ha annunciato il contributo ordinario del 2017 allo stabile di 250 mila euro sarà erogato dalla città metropolitana già la prossima settimana finora non era stato possibile erogare il finanziamento perché la città metropolitana non aveva approvato il bilancio questo però non basterà a tal fine anche l'assessore regionale al turismo Pappalardo ha confermato che la regione siciliana attraverso l'Ars darà allo stabile di Catania circa 1 milione 800 mila euro nella speranza di risanare il pregresso dunque questa parte è in evoluzione di certo invece il cartellone che è stato presentato questa mattina il teatro stabile di Catania torna a proporsi alla città e al territorio con l'autorevole ruolo di propulsore artistico e culturale che svolge da più di 60 anni presentando la stagione 2018-2019 una rosa di 16 titoli tre fuori abbonamento che sono per metà produzioni o coproduzioni targate teatro stabile di Catania il programma trascorre dai capolavori teatrali alle trasposizioni di celebri romanzi fino alla nuova e più recente drammaturgia affrontando tematiche universali e urgenti come l'ipocrisia dei benpensanti il terrorismo l'omofobia la demenza sanile l'amore incorruttibile e l'inganno d'amore il riscatto dal degrado sociale connessioni umani è il fil rouge del nuovo cartellone titolo scelto dal neodirettore Laura Sicignano proprio per evidenziare la rete di relazioni e reazioni che si intrecciano nel teatro del mondo di cui la drammaturgia è specchio fedele il teatro spazio antico intramontabile e connessione dei sentimenti umani qui l'incontro reale tra persone e occasione di autentica connessione il debutto è fissato per il 9 ottobre con scintille testo e regia di Laura Sicignano proprio del nuovo direttore artistico del teatro stabile di Catania interpretato da Laura Curino poi gli altri spettacoli a seguire pensaci Gia Gommino il maestro e Margherita il padre la classe sorelle materassi e via via sino a 6 personaggi in cerca d'autore che sarà proposto fuori abbonamento così come li buffoni e carne da macello nel corso della presentazione un occhio di riguardo è stato anche rivolto ai dipendenti del teatro stabile di Catania che continuano a lavorare malgrado non abbiano ancora percepito tutte le spettanze in tal senso il sindaco Enzo Bianco confermando le difficoltà di bilancio in quanto non ha ancora approvato della città metropolitana di Catania ha comunque rivolto loro un pensiero affermando che farà di tutto per onorare le spettanze che devono essere onorate presente anche l'assessore regionale al turismo Pappalardo sia i pacchetti da consegnare ai turisti perché il teatro stabile di Catania merita di essere visto anche come meta turistica a proposito di cultura il dialetto siciliano diventa materia di studio nelle scuole ovviamente siciliane dal prossimo anno un'ora alla settimana sarà dedicata appunto all'idioma locale lo ha confermato oggi l'assessore Lagalla che ha tra l'altro detto l'insegnamento del nostro dialetto e della nostra storia sarà un valore aggiunto e noi cambiamo pagina andiamo in provincia di Catania stavolta da Cireale dove tra breve inizieranno importanti lavori di bitumazione stradale dal 21 maggio e per quattro giorni a seguire ad Cireale la viabilità subirà profonde modifiche per consentire i lavori di scarifiche e bitumazione di alcune importanti arterie cittadine in centro come in periferia il piano degli interventi prevede il blocco del traffico e la sosta vietata nelle strade interessate dei lavori dalla 6.30 alle 19.30 il via lunedì prossimo con il divieto di sosta in via Giovanni Verga e via Kennedy poi Corso Italia e via Piemonte il 21 la scarificazione e il giorno successivo l'abitumazione stessa tabella di marcia sino al 24 sera per le altre vie interessate dalle opere di pavimentazione le altre strade cittadine serite nell'ordinanza di chiusura sono via La Libertà via Vito Danna via Vittorio Emanuele cui transito ricordiamo resta racchiuso la circolazione per tutta la durata dei lavori inevitabili disagi per residenti ed automobilisti la maggiore criticità il 23 maggio quando mezzi operai si sposteranno su via Antillo strada di collegamento tra Ceriale S Cimitero e Acicatena particolarmente trafficata soprattutto la mattina anche perché i lavori si estenderanno su un tratto di via Sciarelle in cui sarà vietata la circolazione anche dei mezzi pubblici urbani ed extraurbani il piano completo della viabilità in vista dei lavori di lunedì prossimo con mappe e suggerimenti dei percorsi alternativi è stato pubblicato sul sito del comune di Ceriale ed è consigliato consultarlo per svincolarsi dagli inevitabili blocchi alle viabilità e ai disagi per i residenti il comandante della polizia municipale Molino ha sospeso ferie permessi ed impegnerà decine di uomini e donne al controllo del traffico e al rispetto dei divieti i costi di bitumazione si aggirano sui 255 mila euro accantonati da un mutuo acceso dal comune presso la cassa deposito e prestiti destinati alla riqualificazione del Palavolcano a seguito dei danni causati dalla tromba d'aria del 2014 riparati poi con fondi regionali un tesoretto che ha permesso all'amministrazione di intervenire nei lavori di ripristo nelle strade maggiormente ammalorate raccomandiamo di darci una mano è un intervento importante che si fa per la città come abbiamo verificato poco fa è un intervento che costa 255 mila euro e che è da molti chiesto perché sappiamo in che condizioni sono le strade bene le strade vanno manutenzionate e vengono fatte in modo in questo caso definitivo perché l'intervento prevede sia la scarifica e poi l'abitumazione io chiedo assolutamente ai cittadini una collaborazione e comprendo il disagio che verrà fuori perché stiamo andando a fare un intervento su strade che hanno una grande percorrenza sono strade importanti vogliamo ricordare ai cittadini serve proprio ricordarlo Corso Italia via Kennedy via Verga via Antillo via Vittorio Emanuele II via Le Libertà via Sciarelle sono strade che a parte l'uso diciamo ordinario dei cittadini sono anche usate da chi viene e chi lascia a Cireale da e per a Cicatena lo stesso intervento richiede veramente un senso di collaborazione perché per motivi tecnici le strade che saranno oggetto di intervento saranno assolutamente inibite la circolazione bisognerà poi e dopo l'abitumazione attendere che l'asfalto si raffreddi chiedo e faccio appello al senso civico e all'aiuto di tutti i cittadini di 10 Reale e comunque chi percorre le strade 10 Reale certamente qualcuno dirà perché non farle di notte vogliamo chiarire anche questo aspetto intanto non dipende assolutamente da me dico io in questo caso sono un esecutore nel senso che devo consentire sotto il profilo della viabilità e disponendo gli interventi e la nuova disciplina di circolazione consentire a chi ha redatto l'intervento di poterlo fare l'intervento benché io l'avessi chiesto che venisse fatto la notte avrebbe comportato una spesa molto più elevata e in tempi già precedenti si è fatto una scelta differente cioè dire facciamo più strade perché farla di giorno costa meno c'è un disagio per i cittadini ma costa meno ma si fanno più strade si fa una manutenzione una manutenzione sulle strade che è molto più estesa rispetto a quella che si sarebbe potuto fare per le spese di personale la sera la sera o la notte ci spostiamo di pochi chilometri dunque rimaniamo sempre in Alcatanese ma andiamo ad Acicatena polemiche tra il Movimento 5 Stelle e l'amministrazione comunale circa la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel comune ad Acicatena e 5 Stelle sollevano la questione della raccolta differenziata e chiedono delucidazione all'amministrazione comunale sulle percentuali ufficiali di cui temono il mancato rispetto della soglia minima con conseguenze disastrosi per gli utenti cui ricadranno i costi in eccesso il 35% della raccolta differenziata dei rifiuti e la percentuale imposta ai comuni siciliani se non vogliono incorrere alle pesanti sanzioni stabilite dal legislatore regionale un atto necessario nel tentativo di arginare le amministrazioni pochi inclini al rispetto delle normative comunitarie e ministeriali la Sicilia sconta ritardi decennali nella gestione dei rifiuti domestici su cui pendono richiami ufficiali della comunità europea che si traducono in salatissime multe tempi stretti per adeguarsi alla delibera regionale che fissa al 31 maggio prossimo la percentuale del 35% da differenziare scongiurando stangate che inevitabilmente ricadranno sui cittadini gravati dai costi dei rifiuti da conferire fuori dai confini regionali per essere smaltiti il costo in bolletta del 30% oltre il dovuto potrebbe diventare insostenibile dalla differenziata non si prescinde il provvedimento regionale di richiamo vale per ogni singola municipalità rimasta al di sotto del 35% percentuale che non garantisce automatismi di risparmio per il taglio in bolletta all'utente finale occorre raggiungere e superare il 65% di differenziata Bartolo Tagliavie esponente dei pente stellati 10 catena sollecita l'amministrazione a chiarire i termini di percentuale raggiunte nel territorio catenoto ed eventualmente ad attivarsi a scongiurare il ricarico destinato ai contribuenti se vogliamo un dato certo i cittadini hanno bisogno di venire a conoscenza immediatamente se il comune di Acicatena nonostante il servizio assolutamente inadeguato di raccolta differenziata o di raccolta tutta che abbiamo ad Acicatena si vedranno costretti a pagare un balzello che non era preventivato nei fabbisogni delle famiglie oppure almeno questa volta il comune ci potrà dare una buona notizia dicendo di aver raggiunto questa fantomatica cifra del 35% e potremmo dormire quantomeno dei sogni un po' più tranquilli dal punto di vista economico meno tranquilli da quello che è la situazione in questo momento dei rifiuti da Acicatena quello è un altro argomento che continueremo a trattare a parte perché come dicevo la raccolta differenziata da Acicatena è una raccolta che è nata male sta continuando peggio e continuerà sempre a essere gestita malissimo perché non è mai stata fatta nessun tipo di informazione ai cittadini che è l'elemento fondamentale per poter mandare avanti una raccolta differenziata alle sollecitazioni del grillino replica così l'assessore all'ecologia di Acicatena Giovanni Pulvirenti le preoccupazioni dei 5 Stelle sono infondate anche perché prima di emettere questo comunicato avevo avvisato il riferimento locale di Acicatena che era tutto apposta ma ancora voglio andare dietro nel tempo qualche mese fa abbiamo fatto un'importante conferenza stampa dove davamo alla città soddisfazione per quello che era l'obiettivo raggiunto dall'ufficio ecologia del comune di Acicatena noi siamo oggi ad un ottimo risultato diciamo che siamo fermi ad un 44% tendente al 45% entro il mese c'è stata solo una flessione negativa di qualche punto nel mese di gennaio ma dovuta alla chiusura delle discariche dell'umido dunque si andava a confuire il rifiuto in altra tipologia di discarica tutto sotto controllo vorrei tranquillizzare gli amici dei 5 Stelle che è tutto sotto controllo la città non rischia alcun aggravio di tasse e non siamo nella fascia di rimprovero che ci faceva vedere il signor Bartolo Tagliavia dei 5 Stelle torniamo adesso da Cireale per l'apertura della ventesima mini olimpiade al San Luigi una manifestazione che si è aperta oggi si chiuderà domani davvero tanta gioia allegria e soprattutto sport tra i ragazzini che frequentano l'istituto nel pomeriggio di oggi con l'alza bandiera e l'accensione del tripode è scattata all'istituto San Luigi 10 Reale la mini olimpiade che quest'anno festeggia la ventesima edizione una vera e propria tradizione sportiva quella dell'istituto Lasaliana Acese che ha sempre puntato sullo sport quale strumento di crescita dei ragazzi e per segnare al meglio l'inizio della ventesima edizione l'istituto Acese diretto da fratel Celestino Rapuano ha fatto le cose all'ingrande con la parata degli atleti cioè alunni e studenti del San Luigi salutati da due testimonial di eccezione Giuseppe Gibilisco ultimo campione del mondo di atletica italiano nonché medaglia di bronzo nel salto con l'asta alle olimpiadi di Atene e la pistard Anita Pistone atleta olimpica a Pechino e terzo tempo assoluto della velocità italiana in campo femminile la mini olimpiade si diceva è scattata con le gare di velocità con lo sprint quindi come ancora sprint è attuale il messaggio la Salliano certo è proprio attraverso lo sport che il ragazzo si forma il ragazzo attraverso lo sport impare le regole del vivere sa stare insieme agli altri e quindi fondamentale importantissimo avviare il ragazzo all'attività sportiva la ventesima edizione per venti anni sono portati avanti questi valori il valore della realtà valori che stanno dietro lo sport e oggi in maniera particolare abbiamo anche degli sportivi olimpici questo è proprio per testimoniare l'importanza dello sport domani ci sarà un'edizione ancora più particolare in cui ci saranno molti atleti che rappresenteranno diversi sport domani alle 18.30 la premiazione della squadra vincitrice tra le compagini in competizione che oggi si sono sfidate sotto il fuoco olimpico innanzi al capo addestramento del 62esimo reggimento fanteria sicilia tenente colonnello Vincenzo Anzalone Anita Pistone la velocista catanese guarda con attenzione che ci sia le rete ma io me lo auguro me lo auguro magari le mini olimpiadi potrebbe essere un obiettivo per qualche atleta che viene fuori da questo grande vivaio è importante con l'esempio che diamo noi e che abbiamo fatto abbiamo dato insomma qualcosa allo sport poter dare questo messaggio a questi bimbi piccoli e il messaggio è quello di crescere nello sport io sono figlio dei giochi della gioventus e quella mattina non stavo al campo scuola di Siracusa a praticare i salti in lungo quella mattina lì non avrei visto i ragazzi che saltavano con l'asse il mio primo allenatore il signor Lendini non si sarebbe avvicinato per dirmi vuoi provare quindi la mia carriera non sarebbe mai iniziata lo sport è sorriso io quando mi viene detto tu hai fatto sport hai fatto sacrifici io sacrifici non ho mai fatti per me lo sport è una ragione di vita e grazie a questo ripeto ho realizzato ho realizzato tanti sogni il mio augurio da sportivo e da uomo dello sport appunto ne fa una ragione di vita e augurare a questi ragazzi di realizzare i propri sogni anche attraverso lo sport bene adesso noi ci fermiamo andiamo in pubblicità ci rivedremo subito dopo bene rieccoci in studio nessun aggiornamento dalla redazione dunque termina qui la seconda edizione di Ora Tg che avete visto sul canale 89 del digitale terrestre in Sicilia di Rai TV che avete seguito sulla nostra pagina Facebook dove potrete rivedere queste e le altre edizioni del telegiornale che potranno essere riviste anche sul nostro sito internet www.reitv.it e sul nostro canale YouTube prossimo appuntamento con l'informazione su Rai e per domani alle ore 14 grazie per la vostra compagnia ci lasciamo con il meteo le previsioni meteo per la giornata di domani sabato 19 maggio il cielo a Catania sarà prevalentemente sereno con lievi addensamenti di nubi tra Siracusa Ragusa Messina Grigento e nel Palermitano i venti saranno deboli i mari calmi vediamo adesso le temperature nel capoluogo etneo minima e massima saranno rispettivamente di 18 e 23 gradi la città più calda a Grigento grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.